e buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti scusate se vi ho fatto aspettare ma non so se vi è mai successa sta cosa cioè io come sapete sono abbastanza orbo cioè non ci vedo assolutamente niente quindi ho le lenti o gli occhiali e mi si è tipo girata la lente dentro l'occhio ci ho messo una vita per trovarla insomma anche oggi abbiamo la scusa per arrivare puntuali domani detto questo io stavo cercando di impazzire dietro il grafico di bitcoin cercando di capire dove fosse la resistenza dove potessimo andare a parare poi ho guardato il grafico della market cap totale e mi ha illuminato un po di più se non sbaglio tra l'altro questi esattamente sono i livelli nati sul settimanale in particolare nato qua durante questo piccolo top e di solito i livelli sul settimanale sono dannatamente efficaci come supporti a resistenze anche nella price action sul giornaliero infatti guardate oggi che rimbalzino puntuale c'è stato sta di fatto che guardando un po la situazione generale quindi bitcoin anche le alt in realtà abbiamo un periodo di volumi veramente secchi c'è un periodo noioso è vero che l'ultima volta che l'ho detto era meglio se me ne stavo zitto perché ho detto mamma mia che mercato noioso e poi babam babam c'è stato un dampone clamoroso però ragazzi guardate ancora sti benedetti volumi che sono di nuovo in trend ribassista non abbiamo una price action significativa perché ripeto la prima resistenza subito ci abbiamo cozzato rifiuto netto è da una settimana che facciamo delle candeline che ci vuole adesso non so se ce l'ho alla lente di ingrandimento per andarle a vedere non mi bastano neanche le lenti a contatto girate su se stesse e quindi insomma non non c'è particolare attività ecco su bitcoin adesso diamo anche un'occhiata alle alt per vedere se magari lì c'è qualcosa qualche trend qualche cosa che è degno di nota e va e di cui vale la pena parlare ma in compenso ci sono alcuni update nel mondo terra nel mondo solana e anche da un punto di vista macroscopico insomma è un periodo in cui le cose stanno succedendo in cui c'è evoluzione da un punto di vista anche geopolitico insomma parliamo di un po di cose più orientate a ciò perché di mercato di price action c'è veramente poco da dire se guardiamo bitcoin per concludere quindi abbiamo una prospettiva secondo me come scenario più probabile di lateralità all'interno di di questa zona vedete abbiamo subito rifiutato ve l'ho detto qua sopra che tra l'altro cosa abbiamo toccato lo sweep di questa shadow cioè è stato proprio uno sfioro una cosa neanche da dire un minimo di di impeto da parte della domanda no giusto appena arrivata lì pam legnata sulla testa e quindi questo ci ha portato di nuovo oggi a una candelina rossa un po più direzionale delle altre e quindi l'attenzione secondo me vale la pena tenerla sulla zona range high range low di di questo di questo piccolo intervallo che penso sia un po l'intervallo di riferimento di questo periodo quindi come range low abbiamo la zona 35.000 giù di lì come range high sui 38 e 38 e 8 38 7 facciamo anche 39 magari 39 e mezzo insomma questa zona qua dai la zona dalla chiusura del daily di ieri fino al top della shadow facciamo che la nostra area di liquidità in particolare attenzione gli sweep perché se andiamo a fare degli attacchi cioè in questi range molto compressi con volumi bassi di solito là dove quello scenario che si verifica più frequentemente è lo sweep ovvero l'andare a cercare di prendere liquidità sopra o sotto e poi assorbire immediatamente il movimento tac tac una cosa del genere che sono tra l'altro dei falsi movimenti molto subdoli quindi massima attenzione a non farsi fregare a non pensare che il primo attacco a un livello e magari la prima chiusura appena sopra sia subito un breakout o un breakdown detto questo andiamo a vedere un po il resto del mercato quindi la bitcoin dominance a che punto è è a un punto in cui guardate abbiamo trovato un top locale un high perlomeno sul breve stiamo un attimino ritracciando ma nulla di particolare anzi qua è stato fatto un bel costruttino di bottom adesso sto grafico è abominevole non aspetta facciamo che cancelliamo un po di porcherie e ci rimettiamo il nostro la zona di low che è sul 39 e mezzo per cento facciamo anche una riga dritta così da da essere precisi e però gialla gialla assolutamente gialla mentre in alto abbiamo un è più perché fino a qua era un po così adesso sembra essere calato ma abbiamo dei lower high comunque no quindi c'è da capire ecco se questo costrutto di bottom farà sì che adesso ricontinuiamo a salire con la dominance quindi con bitcoin che outperforma sulle alt oppure se è già terminato il tutto e adesso ci ridiriggiamo verso il supporto 39 tutto da vedere per ora non ci sono particolari performance esplosive perché abbiamo avuto un po di recupero da parte delle alt che hanno performato abbastanza bene però vedete quelle dico storicamente nell'ultimo periodo quindi layer one layer two principalmente e però vedete che si stanno iniziando a formare dei possibili costrutti di top anche lì io guardo il grafico contro bitcoin vi anticipo la domanda perché da un punto di vista speculativo a me interessa di più visto che guardare i grafici è per un'operatività speculativa mi interessa di più andare a capire se per forma meglio bitcoin o se per forma meglio l'alt in questione perché se per forma meglio bitcoin non sto nemmeno a diventare pazzo a cercare l'alt giusta il setup e quant'altro piuttosto lo cerco appunto su btc su btc tra l'altro ancora il mio long in pending qua giù dov'è che era in zona dai 32 ai 28 era era la zona dove dove avevo messo il mio piccolo long speculativo per per andare a seguire quello scenario ve l'avevo detto di possibile attacco alla liquidità sul range low macroscopico al quale siamo molto vicini e poi l'eventuale rimbalzo chiaramente l'invalidazione se ciò non avviene la si trova qua sotto quindi se andiamo a chiudere delle candele qua giù in particolare le settimanali comunque non volevo andare off topic perché vi dicevo su molte alte ci sono dei costrutti un po spaventosi quindi di top come ad esempio su phantom ve l'ho fatto vedere abbiamo questa sorta di testa e spalle super schiacciato su ethereum invece le cose vanno meglio guardate ethereum è bello carico in questi ultimi giorni quindi molto bene anche perché sta facendo degli higher low e di fatto è all'interno di questo canale rialzista quindi ethereum è una di quelle coin che sta performando meglio tutto sommato e probabilmente anche complice dell'andamento della dominance attenzione adesso a questo cluster quindi 0072 che è quel cluster famoso che ci portiamo dietro da sempre e che guardate vedete ha agito qualche volta è come falso falso attacco oppure come tentativo di attacco e adesso stiamo vedete di nuovo approcciando adesso quindi vediamo se lo superiamo oppure no e da lì capiremo se ethereum adesso andrà a seguire di nuovo il trend di breve o magari ops lo inizia ad invertire per andare a cercare un nuovo high e seguire il canale sapete che su ethereum per quest'anno io sono abbastanza lato fondamentale bullish perché c'è il discorso del merge ne avevamo parlato dovrebbe essere quest'anno ma a prescindere che sia quest'anno l'anno prossimo eccetera cioè ethereum nel momento in cui avverrà il merge veramente cambierà tutto per ethereum andate a vedere il video se volete capire meglio come cambia appunto la tokenomics e quant'altro ma in particolare è proprio la tokenomics perché col merge non è che si va verso la scalabilità no per quello ci vuole lo sharding che è la fase finale ma è spiegato di nuovo tutto nel video guardando le altre coin abbiamo ftp che sta performando bene ma perché ftx sta facendo delle cose veramente incredibili adesso dunque abbiamo visto un po di notizie no ultimamente la valutazione a cos'era 30 e passa miliardi di dollari la novità di oggi è che vuole acquisire il gruppo di exchange giapponesi liquid per poter offrire i servizi anche in giappone in maniera regolamentata sapete che una delle cose che mi piacciono di ftx è proprio il fare tutto con la massima compliance che è una base fondamentale no per un exchange per poter operare sul lungo termine ftx e binance si stanno muovendo che sono i due colossi al momento in termini di exchange si stanno entrambi muovendo in questa direzione ma in particolare ftx sta avendo una crescita incredibile in percentuale sui suoi volumi e questo si rispecchia direttamente poi sul token ftp perché tra l'altro avevo letto da qualche parte un po d'acqua ghiacciata qua ci vuole perché avevo letto da qualche parte che volevano incrementare gli use case di ftp cioè aspettate un attimo che mamma mia e quindi niente molto bene per per ftp che infatti vedete sta approcciando una resistenza importante vediamo se la supererà le altre coin fondamentalmente importanti in questo periodo vediamo one vedete anche one molto male atom a proposito atom maluccio anche lei c'è stato un po' uno scarico no uno sciacquone delle al coin sia di quelle che hanno performato bene sia delle altre che ormai sono un po' in come si può dire in in sofferenza e interessante invece vedere ethereum quindi questo ethereum in controtendenza non mi dispiace comunque adesso non voglio perdere troppo tempo davanti ai grafici vi faccio la carrellata di notizie e poi fatevi sentire con le domandozze luke ma il tuo referra all ftx conto 5 per cento per sempre è valido ragazzi è sempre valido se sento la parola referra io mi inizio a triggerare quindi è assolutamente valido lo trovate dove lo trovate lo trovate adesso ve lo do subito ragazzi non vi faccio aspettare un secondo di più perché sarebbe veramente un crimine e assolutamente valido su tutte le fee di trading spot futures eccetera eccetera sto cercando di prendere tempo mentre mi carica il fantastico bit.ly che è ancora intasato con tutti i link della caccia al tesoro d'altro mi avete chiesto quando facciamo la prossima eccola qua tac via ora che ho fatto la mia scillata possiamo andare avanti avevo fatto iscrizione a finance ma non vedo il 20 per cento di sconto sulle fee allora quello sconto lì di finance è un rimborso in sostanza no tu ti registri con il referral il file trade e poi c'è la videata c'è una schermata dove nella sezione referral proprio dove ti fa vedere tutti i rimborsi che ti vengono ridati e sono pari al 20 per cento della fee quindi la paghi e poi la recuperi manca la spiegazione della inter chain security è vero è vero ma perché abbiamo parlato di come si chiama la mamma mia il cioè i progetti su cosmos non di atom in sé di atom in sé ne potremmo parlare in un video dedicato perché effettivamente inter chain security altre cose influiranno con buona probabilità quest'anno sulla tokenomics di atom e quindi assolutamente sì scillatore di emozioni questa mi piace mi piace molto mi piace veramente tanto l'air drop dei bit per by bit che ok si no è dovrebbe essere finito perché mi avevano detto che lo facevano a fine gennaio quindi adesso chiedo conferma ma penso proprio che sia andata così perché eravamo rimasti d'accordo in questo modo di vi fa sapere comunque su telegram vi condividerò su telegram allora a proposito di ftx se non siamo abbastanza ftt per ricevere gli sconti ha senso metterli a rendita su qualche piattaforma su solana ma guarda ci sono dei pool carini se non ricordo male su e poi li puoi usare come collaterale anche gli ftt su solend mannaggia mannaggia non mi ricordo mi ricordavo che su sunni c'era un pool con ft t e quello di wormhole forse o quello vrap ed andiamo a vedere un attimo è rapidamente altrimenti era collateralizzabile non mi ricordo se su larix o su solend ci devo andare a rivedere allora a e ft t no 5 per cento però non è una roba da impazzire che qua ormai ci sono talmente tanti pool con sto wormhole che fa 5 x ft t ft 12 per cento che cos'è x ft t ragazzi che cosa cavolo è ma sunni v2 saber x ft t qualcuno sa che cosa caspita è questo x ft t ogni giorno che apro sunni trovo un pool nuovo è incredibile è veramente impressionante sarà qualche altro bridge sicuro sintetica ft t t ma vuoi che sia quello di sinteti fai come si chiama chi è nel peg ma vediamo dunque è quello di sinteti fai credo a sto punto non ricordo neanche come si scrive è il sintetix su solana insomma upcoming no come non detto come non up vediamo c'era scritto upcoming quindi no c'è qualcosa c'è allora exchange e infatti x ft t eccolo qua in usd quanto vale 1 1 44 e 29 mentre ft t è 44 e 44 si dai è peggato abbastanza peggato dovrei andarlo ad approfondire sto sintetix fai come funziona vabbè non volevo perdermi però sembra un pool non male no altrimenti dicevo su solend forse c'era ft t a collaterale vediamo eccolo qua con un long to value del 65 per cento non saprei se si può ottenere il 12 per cento così abbastanza pulito forse so ft t quanta roba c'è ragazzi io non so più veramente qua su su solana iniziano esserci asset 35 versioni per ogni asset vabbè comunque niente torniamo a noi amici miei torniamo a noi allora c'è un modo per mettere a rendita i bet bet sono a rendita di per sé su sunni guarda la saver luna ren luna al 22 per cento niente male niente male di solana pay ai notizie oggi si è solana pay era uno degli argomenti del giorno perché effettivamente non è affatto male come cosa cioè per per il discorso della mace adoption no alla fine solana abbiamo capito che punta molto all'adozione a livello come si può dire molto sul gaming e sui metaversi no perché comunque la performance dovrebbe adesso ci sono stati un po di problemi però il loro obiettivo è sempre macinare sulla performance dovrebbe essere il loro principale selling point e di conseguenza tutte quelle applicazioni che hanno che si basano no anche sulle microtransazioni capitano a fagiolo una di queste può essere proprio i pagamenti quindi solana pay in sostanza permette di fare né più né meno che mi aspettavo qualche immaginina un po più bella però vabbè vediamo forner chance se fa vedere qualcosa eccola no non fa vedere una mazza molto bene no in sostanza è una simile paypal no dove tu hai tu crei la tu vuoi un pagamento scrivi l'ammontare ti genera il qr code l'altro lo inquadra e sono pagamenti poi permissionless perché non sono centralizzati e li invi direttamente sulla chain solana quindi li puoi inviare in usbc li puoi inviare in sol li puoi inviare in altri asset spl 20 20 vero sì quelli insomma gli asset su solana tokenizzati su solana è integrato con ftx pay che non so se l'avete mai usato ma è veramente carino se siete dei commercianti interessati a implementare i pagamenti in cripto dateci un occhio ftx pay è veramente user friendly secondo me ma al di là di quello è integrato anche col wallet phantom di cui è uscita l'app per ios poco fa quindi veramente ben fatto e poi nasceranno le estensioni per per i siti web per gli commerce quindi è un progetto interessante su una chain come solana secondo me non ci sta male poi in realtà vi volevo parlare anche di di tutt'altro in tutt'altro ordine quindi partiamo da da terra no visto che le note avevo un paio di notizie su terra interessanti partendo da ancora dove c'è sempre il dilemma della yield reserve la yield reserve che si sta svuotando quindi c'è bisogno un po di di dare uno scossone no ad anchor di di andare a incentivare un po i borrow e di di andare a creare un po di utile per la piattaforma stessa come facciamo ed ecco che qua c'è stata la proposta della versione 2 di anchor con i nuovi collaterali e quella sarà sicuramente una bomba ma anche questa proposal a me non dispiace c'è una proposta che ha superato il quorum quindi adesso la votazione avrà effetto se sì o se no dove viene proposto di aumentare il loan to value di biluna all'ottanta per cento cosa vuol dire vuol dire che se adesso si viene liquidati al 60 dopo questa proposal si verrà liquidati all'ottanta quindi si può andare a borroare di più sui propri biluna è un bene o male c'è maggior rischio è troppo di gen allora lì dipende dal max borrow perché quando si va a borroare ci sono due parametri allora adesso qua colleghiamoci un attimo in testnet dove sei dove sei dove sei allora eccola colleghiamoci un attimo in testnet così vi faccio vedere step by step tutta questa cosa allora questo è anchor in testnet non è vero non è vero non è assolutamente initializing wallet sì dovrebbe essere questo ce la faremo dai forza non mi tradire proprio ora testnet sì facciamo un bel refresh dai facciamo così che funziona sempre c'è un pop up ok test 01 sì ma niente non non gli piace più mi sa che c'ho qualche baghettino su terra station ma porco cane che vi volevo far vedere tutto step by step il discorso del long to value del max borrow eccetera eccetera invece no allora riproviamoci questa è la mainnet riproviamo in testnet se ce la famo altrimenti facciamo uno sforzo di fantasia vediamo bruciamo le dita e vai allora come vedete qui abbiamo due due livelli qui c'è già stata probabilmente una proposal di qualche tipo ma abbiamo due livelli questo lo vedete 52 no ma non è questo è recommended allora proviamo a fare borrow no è questo è questo abbiamo due livelli questo qua che è il recommended poi se spingiamo al massimo arriviamo a 60 vedete 59,9 questo è il max borrow si chiama è un parametro che impone un limite al long to value all'apertura del borrow poi abbiamo il max il massimo long to value che qua è 70 che vuol dire oltre a quello viene liquidato quindi i parametri sono due in mainnet al momento se non ricordo male il max borrow è a 50% e il long to value è a 60 ok? quindi se spostiamo il long to value massimo a 80 ma comunque il max borrow rimane a 50 magari lo alziamo un po' a 60 a 55 giusto per eh non diventa più di gen ma anzi diminuisce il rischio liquidazione perché io anziché essere liquidato al 60 vengo liquidato all'80 e senza dover aprire un borrow più di gen perché comunque il max borrow è sempre a 50 questo cosa fa? va a incentivare un po' di più il borrow perché di fatto rende più competitivo encore il 50% di long to value massimo all'apertura del borrow non è molto alto e la liquidazione al 60 fa sì che un long to value di apertura al 50 sia già di gen cioè un long to value safe su encore tra il 20 e il 30 per evitare cattive sorprese no? se spostiamo il massimo long to value 80 non è più 20-30 ma magari diventa anche 40 no? 40-45 perché se anche il collaterale fa meno 50% non veniamo liquidati proprio per un tema di massimo long to value quindi io sono assolutamente favorevole a questa proposal non ho anche con cui votare quindi io mi limito a dire sono favorevole a spiegarvi il perché e questo potrebbe appunto andare a incrementare la domanda di borrow proprio perché collateralizza di più non mette a rischio la piattaforma perché comunque l'80% di long to value massimo per liquidare è comunque assolutamente dignitoso mi spiace un po' per gli utenti di Kugira perché su Kugira dove si va a far da liquidatori con 60% secondo me si liquida molto di più che con 80% soprattutto se il gap tra il max borrow e il massimo long to value rimane alto quindi questo è sicuramente una cosa utile per andare a incrementare la borrow demand quindi la yield reserve di conseguenza poi abbiamo il lancio di un protocollo molto interessante che si chiama edge protocol edge protocol di fatto è un money market dove ognuno può creare il proprio cioè è difficile da spiegare vi faccio vedere questo che forse lo fa capire meglio in realtà non hanno detto ancora più di tanto però sostanzialmente si potrà andare a creare dei prestiti collateralizzati direttamente a nostro piacere cioè possiamo noi andarli a creare e chi vuole poi partecipa in sostanza una cosa del genere e quindi è un money market libero diciamo non imposto con dei parametri che possiamo decidere noi e poi chi lo vedrà potrà partecipare non partecipare e decidere appunto il da farsi e questo si integrerà poi con tutto il resto e anche con anchor perché si potrà andare a collateralizzare più asset per chiedere magari in prestito UST e tra questi asset ci sono anche i liquid staking come luna x che sarà il primo lo avevo letto da qualche parte mi pare su stader l'avevo messo nei segnalibri aspettate che lo andiamo a recuperare eccolo qua vedete con luna x e edge protocol si potranno fare dei giri interessanti tipo collateralizzare luna x per borroare luna per scambiarlo insomma fare un po' di giri per andare a massimizzare il rendimento dei luna mentre sono in staking quindi questo era il primo topic del giorno su tut terra poi c'è un'analisi di chain analysis sugli nft e riciclaggio che è un tema su cui se ne dice di ogni qua c'è qualche dato secondo me interessante dove emerge che il cosiddetto wash trading cioè il generare volumi fasulli è molto importante come fenomeno per far vedere che il floor price è più alto per far vedere che ci sono tanti volumi sull'nft in questione quindi si fa il cosiddetto wash trading per simulare volume e questo è un fenomeno abbastanza importante aspettate che volevo andare a cercare il grafico eccolo qua dovrebbe essere questo wash trading esatto numero di seller che si auto vendono in sostanza cioè creano più address e se li vendono dall'uno all'altro per generare dei finti volumi vedete questo è il questo è un po' un grafico che fa vedere la distribuzione di questo mentre il riciclaggio ovvero l'illecito di fatto è più basso cioè qui è stimato a un miliardo e mezzo di un milione e mezzo di dollari non so se è in unità o in migliaia però 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 mi pare che sia un milione e mezzo di dice small but visible quindi non so se non ci sono ancora gli strumenti per tracciarla a dovere e quant'altro però principalmente arrivano da scam e da fondi rubati e sanzioni non lo so che arrivano direttamente nelle piattaforme degli nft quindi riciclare tramite gli nft in sostanza interessante ma aspettavo di più ecco perché di riciclaggio se ne parla molto invece parlando di nft con un caso d'uso un po' più concreto secondo me riguardo gli unstoppable domain di cui parliamo ogni tanto parliamo ogni tanto vi aggiorno insomma ho visto un annuncio che in realtà è di un po' di tempo fa sono rimasto indietro ero forse ero ancora no non mi ricordo no era ancora prima di bananaro olandia quindi no imperdonabile il login with unstoppable ecco questa era la super figata che aspettavo di unstoppable domain ovvero la possibilità di comprimere un sacco di informazioni tra cui l'indirizzo email la password varie cose sia del web 2 che del web 3 all'interno del nostro dominio quindi vedete c'è login with unstoppable quando nel momento in cui uno vuol creare no il suo la sua identità web 3 che può essere il nome utente punto punto crypto no ad esempio con l'immagine profilo legata all'nft che è già una feature disponibile no su unstoppable ci si può mettere dentro magari una mail delle credenziali e fare il login ad esempio a binance in un futuro in cui lo supporterà login with unstoppable c'è già dentro tutto e in futuro un'altra implementazione sarà l'integrazione anche del kyc all'interno di questo dominio lì poi ci sarà un tema di custodia perché ti rubano il dominio ti rubano tutto quanto quindi sarà interessante dibattere anche di questo perché è sempre un'estrema responsabilizzazione no avere così tante informazioni all'interno di un nft in questo caso che sapete è soggetto comunque ad attacchi di phishing magari cercano di sottrartelo e in questo caso non è come insomma rubarti un'identità che vai a denunciare rifai il documento eccetera qua insomma sono un po' più cavoli amari ecco però interessante secondo me il tema dell'identità sul web 3 è un tema che abbiamo capito è destinato a far parlare di sé sempre di più le applicazioni che lo accettano al momento sono ancora poche vedete ce ne sono altre in arrivo ma sarà un processo chiaramente lungo perché è una cosa estremamente innovativa se vi interessano gli unstoppable vi lascerò il mio referral link c'è sempre in realtà nella descrizione del video su youtube poi ecco questa è la notizia forse più importante bisogna fare attenzione al 15 di febbraio prossimo perché il senato degli stati uniti si riunirà parlando delle stable coin io a questo punto vi chiedo addirittura cosa ne pensa cioè secondo voi cosa ne uscirà da queste discussioni sulle stable coin cioè quali saranno le posizioni del senato e le posizioni in generale dei regulator sulle stable coin vorrei che me lo diceste nei commenti per discuterne mi sembra un topic estremamente attuale in ogni caso ripeto ci saranno degli esperti che sono chiamati in causa per dire la loro come ad esempio il buon Sam di FTX che ormai è ovunque una persona un dirigente di Coinbase uno di Bitfury uno di Circle che sono quelli di USDC quindi ci sono un po' di persone provenienti direttamente dall'industria crypto che diranno la loro immagino aiuteranno a dare un parere tecnico che comunque serve mentre dall'altra parte ci saranno il senatore il regulator e quant'altro che daranno un parere più burocratico istituzionale e sarà sono curioso di vedere cosa ne salterà fuori proprio perché il tema delle stablecoin è un tema estremamente attuale allora io qui avevo anche una serie di altre notizie ma vi dico solo l'ultima che è una curiosità secondo me interessante il 10% della popolazione mondiale possiede una almeno una crypto c'è un un sondaggio fatto da Fimbold che dice che la Thailandia guardate al primo posto ve lo sareste aspettati con il 20% cioè 20 persone su 100 utenti internet possiedono almeno una crypto cioè non una intera ovviamente ma almeno una frazione di coin e indovinate dov'è l'Italia opla in coda eccoci qua 6.3% sotto di noi c'è la Cina vabbè ci sta dovrebbe essere zero in Cina l'Egitto Polonia Ghana Arabia Saudita Marocco Israele e Russia e mentre le top sono Thailandia Nigeria avevamo visto come si era abbastanza diffusa Sud Africa comunque vedete alcuni paesi come l'Argentina anche dove c'era il tema della politica monetaria un po' scellerata e quindi molto interessante questa cosa io mi aspettavo sinceramente che l'Italia questo cosa qua sotto tiriamolo via per piacere mi aspettavo che l'Italia fosse più in alto sapete a essere sincero perché pensavo che fossimo un po' più avanti su questo cioè almeno noi utenti come regolamentazione siamo un po' più indietro ma come utenti secondo me siamo avanti ma forse perché allora nessuno la dichiara chi è che possiede cripto cripto cosa sono io ho perso la chiave privata io ma no cripto ne ho sentito parlare ma mi sembra tutto uno scam va bene comunque basta il resto ne parliamo magari dopo magari un'altra volta adesso due domandozze direi che le possiamo anche leggere allora 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 ho appena finito di studiare il tuo corso sulla DeFi tra l'altro la DeFi adesso giovedì è domani mannaggia devo preparare la prossima puntata miseria devo preparare la domanda non è mica finito il corso sulla DeFi perché mancano strategie avanzate mancano mancano un po' di cose vedrete non vi spoilerò nulla poi Luke puoi spiegare Tornado Cash serve a rendere non rintracciabili le operazioni del wallet sì di fatto serve per riciclare denaro quello è è un uno di quei mixer di fatto sono mixer perché è uno smart contract all'interno del quale si vanno a fare transazioni lui tu aspetti un po' e dopo un po' vai a prelevare e di fatto si taglia il ponte tra l'ingresso e l'uscita quindi di fatto diventano se le si va a prelevare con un address vergine diciamo diventano non rintracciabili e quindi sì sono l'ideale direi per riciclare denaro non ci vedo altri use case ecco sinceramente sì la privacy eccetera allora poi 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 vediamo le altre domandozze vediamo le altre domandozze saranno contenti quelli di Kugira esatto molto contenti molto contenti ci sarebbe anche la proposal per un contratto con una major sportiva americana giusto è vero è vero e Doquan stesso mi pare che l'abbia fatta ma è sulla governance di luna di terra non di di anchor dunque come come lo andavo a trovare mannaggia terra governance vediamo eccola qua forse è questa no non è questa ma è agora.terra.money quindi la troviamo qui la troviamo qui allora facciamo così dovrebbero esserci tutte le propone eccola qua infatti allora eccolo qua il nostro doquan che va a dire va a chiedere è una preproposale in realtà mi pare che non sia ancora i voti perché non c'è ancora lo snapshot e quant'altro da votare ma l'obiettivo è raccogliere raccogliere allora vi dico anche quanto vi dico anche quanto dunque c'era la somma un certo mi pareva forse una quarantina di milioni se non ricordo male dalla dalla community pool e utilizzarli per diventare sponsor di una major league sportiva americana che potrebbe essere niente ragazzi non trovo ecco la nfl nba nhl e mlb nhl è quella dell'hockey tra l'altro bruttissimo sarebbe l'hockey con luna sulla maglia e comunque no è per avere anche loro più visibilità un tema di visibilità e 40 milioni ecco era scritto nel titolo bene come al solito guardo tutto tranne dove devo guardare e quindi niente ci sarà immagino lo snapshot nei domani nei prossimi giorni non lo so perché aveva scritto entro 48 ore esatto non c'è in vote will go live within 48 hours quindi dovrebbe più o meno esserci e infatti can't see a ok franchise taking us mainstream infatti non sarebbe proprio una figata pazzesca comunque andiamo avanti andiamo avanti allora conosci centrifuge polkadot parachain sai che me la sono segnata da studiare perché è quella se non erro che collega in qualche modo asset reali al mondo onchain tramite tokenizzazione o nft una roba del genere Luke ma tu che hai amicizie addirittura amicizie in ftx magari avessi delle amicizie magari gli dici di spendere qualche cipino in un restyling grafico ma no dai non è male non vi piace la grafica di ftx non vi piace a me non dispiace affatto non mi dispiace affatto allora 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 vediamo vediamo un po' cos'altro abbiamo di bello ma phantom ci sono progetti che valgono su phantom ma c'è una defy molto viva su phantom in realtà assolutamente assolutamente fertile la defy su phantom non mi dispiace affatto ne abbiamo parlato recentemente betoven x poi c'è spirit swap c'è liquid driver ce n'è di roba c'è tanta tanta roba ho letto l'articolo su betoven x ma non ho trovato una sezione in cui parli dell'indice l1 della scorsa live puoi dirci qualcosa in più cosa ok allora guarda il quell'indice lì su betoven x ve lo faccio vedere subito in sostanza è un panino non so se avete presente balancer su ethereum questo è un fork di balancer di fatto aspettate che mi log dove in sostanza si può andare a dare liquidità o a scambiare utilizzando dei pool multi asset che quindi non contengono solo due coin come i classici pool di uniswap ad esempio aspettate che devo andare su phantom eccola ma ci sono dentro più più asset e se tu vai a dare liquidità all'interno di questo pool è come se diversificassi tra tutti gli asset che ci sono al suo interno quindi in questo caso in questo caso dove sei dove sei dove sei c'era dentro è questa battle of the bands mi pare di sì c'è dentro phantom bnb luna avax sol e matic queste sei pesate in questo modo quindi si deposita liquidità e ci si espone con questi pesi a queste coin i rischi sono rischi legati alla piattaforma quindi il rischio di hack il rischio di liquidity crunch nel caso in cui c'è un prelievo di massa diciamo di liquidità ma non è tanto un rischio del liquidity provider perché se tu dai liquidità la puoi sempre togliere non è che la presti è un rischio legato allo swap cioè se tu fai lo swap hai uno slippage si chiama molto alto ne abbiamo parlato proprio nel corso di DeFi sui DEX e per il resto basta cioè sei esposto a questi asset quindi se uno di questi asset dumpa chiaramente tu subisci il dump è come avere appunto un indice ripeto che contiene queste 6 coin e l'altro rischio è il rischio della piattaforma quindi se succede qualcosa a Beethoven X c'è rischio quello è il rischio insomma di ogni DeFi c'è il rischio intrinseco della piattaforma stessa e in più c'è un APR del 61% pagato in parti in BITS che è il liquidity mining di Beethoven X e il 15,30% in fee le swap fee che sono dell'1% al momento altine non so se lo userei a dire la verità non è proprio il miglior pool su cui scambiare se devi swapare all'1% di fee poi conosci la chain di Proton assolutamente no non conosco autocompounder su questo autocompounder ci sarebbe da vedere dove potrebbe essere su Bifi su Bifi non so se c'era qualche autocompounder di su Beethoven X lo scopriamo subito eh lo scopriamo subito allora qua mi rimanda subito a BSC ma noi andiamo su Phantom tanto beviamo un po' d'acqua ghiacciata allora piattaforma Beethoven X Battle of the Bands 91,6% di APY eh sì qua c'è l'autocompounding di fatto effettivamente sì vediamo se ci sono fee zero deposito zero prelievo no eh in sostanza mettendo mettendo l'LP token qui dentro si autocompounda ci si va a disporre al rischio duplice di Bifi più di Beethoven X anziché solo di Beethoven X però di contro si ottiene la la ricompensa direttamente compoundata in liquidità che non è affatto male direi proprio di no poi come pensi verrà aggiornata la tokenomics di Atom e lì c'è da parlare del discorso proprio dell'interchain security e di altre cose quindi lo tratteremo in un video dedicato perché ne vale la pena parla di Cardano cosa succede ragazzi su Cardano si aveva lanciato un Dex amica aggiornatemi voi allora su Cardano cos'era Cardax Cardano ecco questo Adax cos'è vedi Adax Adax che ragazzi cioè io non lo so non voglio fare later perché non mi piace ma sembra che facciano una gara alla peggiore UI che esista cioè ma dai ma che UI è questa chi è che prima diceva di FTX ma dopo che usi questo anche solo lo guardi ti viene il terrore poi un'altra roba che non ho capito cioè qui c'è Dex Chex non lo so ragazzi io non so veramente che dire aggiornatemi voi dai vi prego cosa Sunday Swap è quello più importante Sunday Swap è stato lanciato alla fine che volumi ha come funziona vediamo enter app ero curioso di vedere che che volumi ci sono volume 24 ore e qui devo collegare il wallet io non credo neanche di avere un wallet di cardano niente devo devo attrezzarmi devo attrezzarmi dunque 10 milioni di ADA e 17 milioni di Sunday quindi un po' di liquidità c'è alla fine o no non saprei devo ve l'ho detto devo darci un'occhiata su defailama si vede cardano vediamo others no eh non c'è proprio non lo so dovrei devo insomma approfondire un po' perché un video su cardano non lo potremmo Sunday Swap è una cagata rara fantastico molto bene mi offro mi offro come traduttore di FTX in italiano a gratis ma non c'è la versione in italiano già di FTX mi pareva di sì mi pareva di sì cro pensando nel lunghissimo tempo secondo te ha davvero il potenziale di BNB ragazzi queste previsioni lasciano assolutamente il tempo che trovano cioè dipende da un'infinità di fattori dai nuovi use case che gli daranno dallo sviluppo della Kronos Chain e della Binance Bar Chain che sono le loro le loro chain sulla quale la coin ha utilità di gas e così via quindi cioè alla fine è difficile dirlo investire su Cro è un po' come investire sulla crescita di Crypto.com dell'ecosistema Crypto.com e le sue chain senza stare a fare secondo me paragoni con altre exchange coin che forse lasciano un po' il tempo che trovano cioè Binance è già è oltre è veramente oltre come volumi e come tutto quindi non saprei secondo me una cosa a parte una cosa a parte poi compreresti Cro oggi e oggi nel senso ora no sinceramente perché la situazione altcoin non è proprio delle più rose qua abbiamo un trend ribassista quindi non mi farebbe impazzire se ci volessi investire andrei a ragionare più sul lungo termine se volessi speculare con buona probabilità aspetterei un segno di di possibile bottom insomma un un higher low perlomeno o qualcosa del genere altrimenti non non c'è non c'è tanto come dire non è tanto un discorso di 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 comprare ora o quando allora 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 andiamo a vedere qualche ultima domanda siamo a 50 minu cardano in quarantesima posizione su defy lama ma allora c'è ma allora c'è dov'è dov'è qua giù eccolo 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 sopra eos sunday swap 68 milioni vabbè dai c'è solo sunday swap praticamente 68 milioni dai vediamo adesso è appena nato facciamogli risolvere i problemi voglio dargli una possibilità a cardano vediamo vediamo un po' che succederà di bello allora aspettate che ho perso le domandotte dove fai lama non c'è la chain cosmos ma perché di fatto ci dovrebbe essere osmosis ad esempio non tanto cosmos eccola osmosis perché il dex osmosis è sulla sua chain sapete che l'abbiamo fatto ieri nel video su cosmos il discorso che ogni cioè tu crei una chain creando una coin che è un po' se su ethereum crei il token rc20 su cosmos crei la chain ti servono i validatori e quant'altro è una delle sue feature è una delle sue feature allora 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 hai visto che su loop finance puoi farmare con aust ma dai no sai che loop non l'ho è il dex su terra vero loop markets non l'ho mai non ci ho mai guardato più di tanto ad essere sincero vediamo ha i niente cosa come ha i niente vediamo oddio io davvero davvero c'è da creare un account no ah ok connect wallet ok allora vediamo un po' sono su mainnet vero non ancora mi sa sono eh no sono in test aspettate che vado in mainnet così andiamo a vedere se ci sono dei pool interessanti dunque dunque dashboard pool no farm eccolo cos'è cos'è sta cosa first second third cosa sta succedendo cosa sta succedendo con le con le immagini tra l'altro con con l'errore vedi ah ok ah probabilmente era rimasto in testnet allora biluna luna al 21% luna ust al 98% porco cane aust ust al 17% aust luna al 72% lupa ust aust anche qga ust eh interessanti anche questi farm il tvl di loop quant'è vediamo dashboard di nuovo 52 milioni è bassissimo come mai è così basso non lo so qualcuno di voi l'ha mai usato loop come vi trovate eccetera eccetera io non ho capito come prelevare i loop farmati dunque mine loop cos'è non c'entra niente i loop farmati con buona probabilità ci sarà da fare un claim no? non farm non so se c'è un vesting o robe dei blocchi dei vincoli minimum one week stake period you can withdraw anytime quindi tu devi tenere almeno per una settimana l'lp in stake e poi dopo una settimana puoi prelevare quando vuoi mi pare mi sembra di aver capito che sia così mi sembra mi sembra dunque 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 devi fare un stake e claim esatto esatto quello un po' il da farsi allora il blocco è di una settimana e il blocco cioè il blocco più che altro è il cioè non è tanto il blocco ma è il dover detenere l'lp all'interno dello stake per una settimana tempo fa ci dicesti che sarebbero arrivate novità su qualche nuovo progetto su Algorand è vero ho visto che adesso è arrivato qualcosa su Algorand solo che non ho ancora approfondito bene ma ho visto che c'è un po' di DeFi quindi magari è il momento anche di aggiornarci su Algorand potrebbe essere interessante Luke fai un corso su come studiare un asset o protocollo allora avevo fatto un video dedicato all'analisi fondamentale mi pare che mi pare che sia ancora c'è la playlist ricerche analisi e dovrei c'era un video proprio con le slide per il resto sul protocollo e quant'altro nel corso di DeFi alla fine sono elencati sono elencate le buone pratiche sul come quantificare il rischio sul come capire quanto ha senso utilizzare o no una piattaforma DeFi e appunto il suo livello di rischio e potenziale rendimento che sono le cose importanti cioè Luca ma secondo te Crona è un rug pull la sua coin non ha un andamento naturale del mercato anche Cake si dumpa ma non ha questo andamento ma Crona è molto molto più inflattiva di Cake cioè Crona è una di quelle che veramente ti inonda di come si dice ti inonda di token farmi come un pazzo quindi non non è una di quelle coin da detenere ecco dal mio punto di vista dal mio punto di vista poi dunque un Dex per Polkadot eh ragazzi Polkadot mi coglieto un attimino impreparato mi coglieto un attimino impreparato su Polkadot dovrei dovrei approfondirlo un po' non so neanche a dire la verità se c'è della DeFi se c'è già qualcosa su Polkadot sapevo che c'erano le parachain ormai ci sono tutte ma poi non so effettivamente cosa sia successo allora ehm allora vediamo vediamo cos'altro abbiamo di bello ma per le chain non e WM qual è la migliore alternativa a Metamask dipende dipende dalla chain perché ad esempio per Terra c'è Terra Station per Cosmos c'è Kepler che è un ottimo wallet per Solana c'è Phantom ognuno ha un po' il suo ognuno ha il suo direi c'è Akala in beta ecco interessante questo me lo segno perché ci vado a dare un'occhiatina avevo pensato ai miei Luna li divido due terzi su Anchor faccio il Borrow metto UST su Anchor e con gli AUST faccio la pool con i restanti faccio la pool con i restanti Luna sul loop perché altrimenti Polkadot devi studiarlo se hai ragione sì perché altrimenti c'è la delta neutral su Mirror sempre c'è sempre la delta neutral su Mirror con AUST come collaterale per lo short farm che senso ha AUST UST al 17 se Anchor dai il 19 ma attenzione che AUST è già col 19 quindi tu hai metà che ti rende il 19 più AUST UST che ti rende il 17 quindi il totale è un po' di più è un po' di più allora ragazzi io direi che ci possiamo salutare per oggi ho dei send come li converto in Atom ecco cane senza checks non facile non facile da send a Atom send che è RC20 a Atom sai che non te lo so dire senza checks sono in difficoltà qualcuno sa qualcuno sa rispondere aiutatemi aiutatemi diventare nodo di una blockchain è una buona idea che costi dovrei sostenere guarda io ho fatto due validatori nel mondo cosmos perché era è un modo un po' per entrare di più no? a contatto con i progetti con l'ecosistema e in secondo luogo per per imparare a gestire un validatore i costi sono veramente bassi ma i ricavi anche cioè a meno che tu non sia uno dei top validator cioè tu guadagni veramente poco perché ti ripaghi di fatto il costo della manutenzione del server e quant'altro ti serve un server che di solito lo affitti no? un VPS e un client che che scarichi e poi crei il il wallet no? che che hai la chiave da validatore quindi hai una chiave privata in più vai a creare il validatore però poi devi avere le deleghe sufficienti per entrare nella top del sono tipo un top 100 in media su Cosmos qualcosa in più top 110 ti ho cercato su Osmo ma non c'eri no? ci sono su Juno e su Desmos Desmos è stato un po' il mio esperimento iniziale no? che ho voluto così provare un po' com'è e poi Juno perché mi sembra un progetto veramente interessante e mi sono esposto così ecco giusto per per conoscerlo di più poi poi questo è un po' il discorso allora 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 direi che abbiamo visto un po' tutto abbiamo visto un po' Choliu tornando a Wonderland dai parliamo un po' di Wonderland visto che non ne abbiamo parlato abbastanza ultimamente in in hai spiegato che il sistema secondo te aveva senso e che hai avuto anche un gain dato che sei uscito prima se vi ricordate ragazzi pensate alla cronologia no? delle cose quando avevamo fatto la prima asset allocation che era non mi ricordo quanti mesi fa il cippino lo 0 famoso meno dello 0,5% era su Wonderland vi avevo fatto vedere il grafico a torta no? nell'asset allocation successiva dove c'era il comparto cippino non c'era più solo Wonderland ve l'avevo anche detto già da prima quindi che una piccola parte perché ragazzi è un capitale ridicolo cioè vi mettete a ridere se vedete l'ammontare reale che è e una parte di quel cippino lì che nel frattempo Wonderland era salito un po' era stato dirottato mi viene da ridere perché era stato dirottato su Redacted e su Rondau quindi ha dato sbriciolato ancora di più e la cosa fa estremamente ridere perché è meglio riderci su su questi cippini e quindi quello è stato il mio take profit tra virgolette perché era veramente una briciola di capitale che da una cosa che è dampata è finita su un'altra cosa che è dampata vi erano molti video di Daniele dove viene intervistato da Avalanche House e alla domanda Wonderland a un ponti risponde di sì e che dipende dai punti di vista inizialmente dice di non sapere dove trova la liquidità per ripagare tutti ragazzi qui ci sono un po' di incomprensioni su questo tema a parte che Daniele è un person già spara minchiate dal mattino alla sera e non va preso sul serio in certi contesti quello spezzone del video lì stava dicendo la sua minchiata del momento ogni tanto lo vedi che la spara e il discorso cioè l'errore che uno pensa che di solito uno pensa quando non conosce il protocollo è che quell'APY sia un guadagno garantito in realtà è tutt'altro cioè lì si basava sulla teoria dei giochi che era una cosa a rischio estremo come abbiamo sempre detto secondo la quale l'APY diluisce il token cioè l'APY ti viene dato in token time e questo cosa comporta? comporta che se tu hai un tot di token te ne trovi di più e cosa fai? prima o poi li dumpi cioè non è che uno li tiene lì all'infinito moltiplicato per tutti i possibili holder e staker quindi crea selling pressure puoi sempre più token che valgono sempre meno questo è un po' come funziona bisogna tenere in considerazione entrambi i parametri e quindi non è un tema di guadagnerò sicuramente il 90.000% l'anno che quello sarebbe alla base di un Ponzi il Ponzi ti dice tu guadagni di sicuro l'1% al giorno e così via ma lì era un semplice discorso di rebase come per Amplefort come per Olympus DAO come per tutti i suoi fork e quindi era semplicemente un protocollo sperimentale il cui obiettivo era diluire estremamente il token e attendere nel tempo doveva stabilizzarsi diventare una reserve currency quello era un po' il tema poi Wonderland doveva essere un un WC c'erano tutte queste idee che poi quando si è scoperto chi c'era dietro ragazzi purtroppo è caduto tutto nel nulla sconforto totale e il token è dampato ed è rimasto quello che abbiamo visto questa è un po' la situazione così che dire è finita un po' così non ha rug pullato no in realtà perché c'è stato si è scoperto che persone c'erano dietro non sono stati rubati i fondi dalla treasury per ora per il momento ma è in una multisig la treasury quindi non non come si dice non è uscito nulla solo che dopo che ti esce una notizia così cioè tu cosa fai rimani investito in time molti hanno detto via il diavolo distanza da un po' time e via ma su Tokamak ci sono novità sì ci sono novità perché adesso lanciano il come si chiama il mamma mia il il dare la liquidità il decidere il direzionare la liquidità che è la sua cosa insomma la sua feature importante sì ma non è che è crollato perché effettivamente era una forma di ma ragazzi con sta storia del ponzi non è che è crollato da sempre nel momento in cui non c'era più sufficiente domanda per il token c'era l'APY enorme faceva sì che il prezzo diminuisse e quindi c'era da vedere il prezzo di Vmemo era stato fatto questo no e poi non è che lo sconforto finale è stato causato da questo è stato causato dalla persona che c'era dietro no questo è stato il tema e purtroppo cioè poi si può fare si può dire chissà ci avevamo pensato non ci avevamo pensato c'è della malignità da parte degli attori che c'erano dietro non ci sono dubbi e purtroppo era difficile saperlo prima lo si è scoperto dopo e il rischio era quello no quella è una possibilità un rischio da preventivare quando si utilizzano protocolli di questo tipo di difficoltà cambia sfondo Luke non ti piace non ti piace Loop o dici questo Liquidity Directors esatto Liquidity Directors che ne pensi di Karura DeFi su Kusama mi sa che ci devo andare a dare un'occhiatina perché tra Akala e Karura Karura era quello si è la versione di Akala su Kusama no si 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 allora niente ragazzi direi su Kosmos ci sono molti altri progetti interessanti ce ne parlerai si si tipo Secret Network non è che me lo son dimenticato è che praticamente ci vuole un video per lui da solo cioè si può parlare un'ora di Secret Network talmente è come si dice talmente è è complesso no ci sono tantissime cose la dove posso leggere la strategia Delta Neutral su Mirror allora guarda qua dove era MirrorTracker punto info te la condivido anche guarda eccole qua vedi qua ci sono le strategie Long Farm Short by Neutral Short Long by Neutral che è la mia preferita eccola qua tac così te la puoi andare a a studiare un po' Luca posso gestire la tua Treasury i miei cipini se vuoi la briciola della Treasury va bene ragazzi dai detto questo io direi che ci possiamo salutare andiamo a rivedere il nostro graficozzo che porta bene tenerlo come sfondo e vediamo un po' che succederà dai vediamo soprattutto il 15 di febbraio costa e benedette stable coin se salta fuori qualcosa di costruttivo oppure no se ci sarà qualche driver che dà un po' di scossa a questo mercato speriamo a rialzo perché per adesso siamo in una fase dove volume in calo lateralità e si protrarrà con buona probabilità per ancora un po' e speriamo di non rimpiangerla noi ci rivediamo venerdì amici miei e basta domani altra puntata del corso dei fai andiamo avanti noi andiamo avanti non si molla non si molla mai buona serata e alla prossima non si molla non si molla è un po' di scossa